Ma ora è successo! E' stata la correnti sotto la macchina! E' stata la correnti! Che no? Deveva andare dalla Dea! Porta Dea! Che cosa? Nella casa? Guatalanta, le tagge dance! Ieri sera causata a sé potenti che gagne più la bus. Però sono troppo contenta per Bergamo. Che serata! Sofia Goggia, dalla grandissima sciatrice, grande tifosa dell'Atalanta, nella finale di Europa League. Dice, ho urlato talmente tanto che non ho più la voce. Lo dice in dialetto bergamasco. Veramente una grande simpatia. La sciatrice che purtroppo ha avuto diversi infortuni. Ma speriamo davvero di vederla di nuovo presto sulle piste. come la grande campionessa che è. E che festeggia anche lei dei veri campioni. Perfetto. 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 Perfetto.